Sì, è stata presentata oggi nella sede del Consiglio regionale la campagna di ascolto che ha promosso il gruppo che fa capo al Presidente Caldoro. Siamo con il capogruppo Gennaro Salvatore, ci illustra l'iniziativa che avete presentato oggi. Tempo di ascolto, una nuova iniziativa del gruppo federato Caldoro Presidente. Gli otto consiglieri del gruppo si porteranno in giro per la Regione visitando diverse città di ogni provincia campana, portando le proprie iniziative legislative, aprendola a confronto con gli amministratori locali per riceverle naturalmente suggerimenti e integrazioni, per fare in modo di riempire un vuoto, ahimè, troppo grande che ancora esiste fra l'istituzione centrale e la Regione Campania e i territori periferici. Stamane abbiamo presentato il primo step di questo lavoro, sei iniziative legislative che vanno dall'istituzione del CREL, il Consiglio regionale Economia e Lavoro, a una proposta di legge che riguarda il marchio di qualità per il pastore presepiale napoletano, ha un'iniziativa legislativa definita Campania Export che si propone di istituire un albo per quanto riguarda manager che accompagnano le piccole aziende nell'internazionalizzazione dei loro prodotti, un'altra iniziativa che riguarda la valorizzazione dei locali storici presenti sul nostro territorio e ancora un'iniziativa che semplifica tutta la normativa che riguarda i parchi e le aree protette, cercando di semplificare le procedure per i cittadini. Un'ultima, anche significativa, che riguarda le aree industriali dismesse in applicazione di un decreto legislativo nazionale che semplifica le procedure e offre premialità a chi intende riutilizzare questi vecchi capannoni abbandonati che costellano la nostra regione. Una corposa iniziativa, stamattina sono state depositate le proposte di legge, andremo in giro per il territorio per avere, come ho detto in precedenza, il contributo e ci adopereremo per far sì che prima in Commissione Consigliare, poi in Consiglio regionale queste proposte di legge diventano leggi della nostra regione. Contemporaneamente il giro per la regione ci consentirà di riprendere il filo e il contatto diretto con tutti gli amministratori per vedere, oltre a queste iniziative legislative, in che modo intensificare la nostra attività di consiglieri regionali. Di questi giorni la polemica è anche forte tra il coordinatore, il commissario regionale del PDL Nitto Palma e il governatore Caldoro si è parlato simbolicamente di duello. C'è una fibrillazione tra il gruppo consigliare del PDL e il nuovo partito socialista. Lei che opinione ha su questa vicenda? Guardi, la nostra iniziativa che rimane nel campo istituzionale mira a colmare un vuoto, un vuoto che nella prima Repubblica era sostanzialmente riempita dai vecchi partiti. Oggi quella che è tutta l'attività come delle antenne sul territorio e l'attività di interlocuzione con i territori i partiti non riescono a farla più. Non è un problema che riguarda solo il popolo della libertà di cui sono iscritto. Tra l'altro è un problema che riguarda un po' tutte le organizzazioni partito. Io ho avuto modo di sostenere che i partiti devono riappropriarsi di questo ruolo e più di occuparsi di ricomposizione delle giunte, di quelle che sono poi prerogative del Presidente della Regione, e probabilmente devono impegnare il loro tempo a cercare di recuperare quel ruolo che nel passaggio tra prima e seconda Repubblica si è smarrito un po' e ha portato i partiti come organizzazioni lontane dalla gente. La democrazia ha bisogno di partiti che siano efficienti, organizzati secondo naturalmente un modello moderno e che sappiano riprendere questo fondamentale ruolo. C'è però obiettivamente una difficoltà di rapporto tra il partito di Berlusconi, di Nitto Palma in Campania e il partito di Caldoro, il nuovo PSI. Si potrà ricomporre questa frattura? In grandi partiti democratici c'è sempre un confronto continuo e molto spesso non c'è un'immediata sintonia e si lavora per trovare le sinergie e le convergenze. Noi siamo convinti che un grande partito democratico, qual è il popolo della libertà, debba sapere includere, in qualche modo eliminare i disteccati e saper fare ricchezza proprio della pluralità di espressioni che deve avere al suo interno. Mai come oggi la Regione Campania ha bisogno di ogni energia possibile per uscire fuori dal bar, in cui le precedenti amministrazioni, i precedenti governi l'hanno fatta languire e abbiamo bisogno di ogni sforzo possibile, abbiamo bisogno non solo di ritrovare le sinergie della maggioranza che ha letto Caldoro, ma abbiamo bisogno di andare anche oltre. Una grande forza al Presidente Caldoro serve a testimoniare con maggiore forza a livello nazionale nel Paese quelle che sono le ragioni della campagna del Mezzogiorno d'Italia. Grazie per la visione!